Allora, paura, dunque siamo partiti da Venezia e arriviamo a Roma e devo dire che in così poco tempo abbiamo avuto una bellissima risposta a questo bando, tra l'altro pensando che l'abbiamo lanciato in un momento in cui le scuole non erano ancora effettivamente aperte, abbiamo il presidente della Film Commission, quindi lo saluto, Luciano Sovena e lo ringrazio anche di questa ospitalità. Dicevo che siamo partiti con dei tempi così stretti che avremmo potuto anche rischiare di avere meno attenzione, ma il fatto che ci siano arrivati una trentina di soggetti che sono arrivati tra l'altro da località assolutamente non concentrate su Roma, ma anzi dalla scuola Olden a delle scuole invece pugliesi, veramente insomma in maniera molto dislocata geograficamente e non romanocentrica, cosa che mi piace sottolineare, mi dà l'impressione, ci ha dato l'impressione che abbiamo così fatto un lavoro capillare anche di comunicazione e per questa prima edizione direi che possiamo accontentarci. Cercavamo un soggetto per un lungo, qualche soggetto diciamo che lo consiglieremo più per il corto, ma questo perché nello spontaneismo che c'è stato nella risposta probabilmente c'è effettivamente qualcosa di più immaturo, però avendo esaminato questi soggetti come era peraltro ben chiaro nel bando, con i nomi coperti, con le provenienze coperte, con l'età anche evidentemente le identità coperte, quando poi siamo andati ad aprire le buste che corrispondevano, le buste inviate che corrispondevano a quello che abbiamo ricevuto via mail, abbiamo scoperto intanto che c'era una grande maggioranza o comunque insomma una buona presenza femminile e infatti poi vedrete tra un momento che cosa vi dirò dei vincitori e poi invece che diciamo che la trasversalità anche anagrafica ci ha portato ad avere alcuni soggetti decisamente più professionali perché si sente che insomma sono persone che sono già uscite da esperienze di scuola o di formazione e qualcos'altro invece magari con delle imperfezioni però con una certa freschezza che denota e anche magari con un po' di immaturità che denotano il fatto di essere nati proprio a scuola. Quindi nelle scuole di cinema per esempio cito il Rossellini per Roma, anche la Volontè oltre naturalmente al centro sperimentale, poi c'è stato c'è stato l'Antonioni di Busto Arsizio, la Civica di Milano, lo Iulm, insomma veramente abbiamo avuto una risposta forse anche in attesa così in breve tempo. Vuol dire che abbiamo fatto un'informazione capillare che essere partiti da un contenitore come Venezia sicuramente ci ha aiutato, poi forse siamo anche un po' bravi e quindi come giornalisti averlo promosso e questo insomma è un buon punto di partenza per cui devo ringraziare la Fondazione Nobby che ha deciso di continuare con il premio quindi ci sarà una seconda edizione, spero molte altre, per poter arrivare anche insomma a dire un domani vedi questo è un nome che tutto sommato è uscito da qui o comunque è stato segnalato quello che possiamo augurare ai vincitori e non abbiamo fatto una rosa di finalisti volutamente perché abbiamo scritto ieri a tutti dicendo che auguriamo a tutti e li avevamo anche invitati qui di prendere questo come un inizio e che sia non solo un portafortuna ma anche un passaggio per capire forse nelle cose che hanno mandato quali sono le imperfezioni, ripensarci c'è stato anche un ragazzo albanese per esempio che ci ha scritto e che è passato in una piccola scuola di formazione ma insomma che fa tutt'altro mestiere però questo per dire che insomma c'è stata una varietà assoluta di arrivi forse anche inattesi così da tutta Italia. Detto questo poi sapete che stamattina e devo salutare gli amici dell'ANAC, Tino Franco scusa ho detto al contrario e Umberto Marino direttore della nuova scuola che in seguito a noi si presenterà quindi un saluto all'ANAC con cui condividiamo questa mattinata c'è anche un'altra autorevole presenza quindi insomma devo dire che la delegazione ANAC si sta formando e quindi dopo lasceremo invece questo fine, non posso dire mattinata perché ormai già la mattinata è finita però la fine di questo momento a loro perché mi sembra importante integrare la felicità per la nascita di una nuova iniziativa anche al fatto che la nostra prosegua allora è il momento di annunciare i vincitori e di salutare Elena Croce Nobis perché devo dire che a lei si deve questo motore, questa spinta Elena vuoi venire? Vieni qui che annunciamo insieme così saluterai tu chi ha vinto io i nomi li so ormai a memoria e allora comincio dalla vincitrice Virginia Bellizzi il suo soggetto è stato quello votato da tutti quindi abbiamo cercato di silurarti ma non è stato possibile Virginia è nata a Pistoia, ieri pensavo quando l'abbiamo chiamata che dovesse arrivare da lì invece mi pare che tu sia a Roma, aspetta che ti do un microfono, vai Sì, di adozione romana, ormai da 4-5 anni dai Va bene, infatti l'ho scritto io stessa dicendo insomma ci dispiace se i tempi sono così ma la sua è stata una formazione anche attraverso le scuole però poi mi sembra che tu già sia integrata Sì, ho iniziato poi un percorso Vorrei che ti stringesse la mano la signora Nobis perché a lei si deve, vi siete già conosciute Anche un po' di campanilismo perché sono fiorentina, siamo toscane Parlatevi anche senza guardarvi negli occhi così riescono a riprendervi Avevamo in comune la toscanità e quindi abbiamo fatto un momento campanilista Il suo soggetto si intitola Le Passere Sì, sono onorata, grazie davvero Anche perché comunque è un premio che ho ricevuto da un pubblico cinematograficamente molto esperto quindi sono ancora più onorata E' sempre difficile trovare un soggetto che in qualche modo non sia mai stato raccontato Poi ho letto delle interviste che riportavano appunto le interviste di alcuni Passere che negli anni 60 aiutavano i clandestini ad arrivare in Francia attraverso le montagne con mezzi di fortuna e da qui è nata l'ispirazione ho cercato di trasporla nell'attualità e quindi la storia di un Passere all'inizio anche molto misantropo, un po' razzista che piano piano si innamora della clandestina tunisina che trasporta nel suo furgone e quindi con lei attraversa l'Italia in un viaggio da nord a sud in un on the road che li porterà fino alla Sicilia E' un tema che parla di immigrazione però universalmente anche del superamento delle frontiere, dei confini che non sono solo fisiche ma sono quelle che ci autocostruiamo tutti i giorni e quindi il fatto che questo messaggio sia stato apprezzato comunque compreso ecco mi ha gratificato molto, sono molto contenta e anche perché comunque è un premio che fa pensare anche a un possibile sviluppo alla fine per qualsiasi autore penso che la cosa più importante sia che un soggetto non nasca e muoia lì che abbia un continuum, che abbia un seguito in qualche modo e niente spero questo e vi ringrazio, ringrazio Laura Delicogli che mi ha accolto e tutto il sindacato che c'è dietro, molti di noi sono qui che hanno letto anche i soggetti quindi insomma socializzo assolutamente con loro il tuo ringraziamento e l'ANAC e la signora Nobis che è stato un piacere conoscere vogliamo sapere tutto della scuola, è arrivato anche il presidente dell'ANAC Francesco Ranieri Martinotti a cui cedo il microfono no tu non ti muovi da qua allora intanto voglio complimentarmi con questo nuovo premio che voi date perché ci siamo incontrati a Venezia a Venezia si fanno tanti proclami, voi avete annunciato il premio, noi abbiamo annunciato la scuola poi passa un mese e mezzo, tutti si dimenticano, non si fa niente invece il premio l'avete fatto e la scuola l'abbiamo fatta quindi siamo persone che in qualche maniera sono coerenti e rispetto esattamente poi io chiederei anche a Giacomo Scarpelli di salire qui sul palco è un legame ideale visto che tu sei il comitato scientifico visto che è un grande sceneggiatore oltretutto è un bellissimo legame ideale con il premio anzi ti do subito il microfono si tra l'altro tu vorrei ricordare che ieri è stato aperto è stato inaugurato dillo te va bene no è meglio lo dica te la cosa è importante un volto a forza va bene sì, tre giorni fa è stato inaugurato il parco Agile Scarpelli a Montesacro Alto e quindi insomma è stata una bella cosa anche emozionante quindi basta che devo dire? adesso diciamo due cose se poi aggiungo qualcosa poi parli dopo della scuola io volevo salutare e ringraziare Luciano Sovena che è il presidente della fine no, è il padrone di casa poi ringraziamo anche Laura Delicolli che è l'altra perdona di casa non so come vi dividete al tinello ma insomma state detto questo non andare via perché sennò vuol dire prendi le distanze no, volevo dire questo lei ha detto venite dopo che abbiamo annunciato i vincitori perché il tema è lo stesso la genesi è simile e potete stare fino alle tre e mezza quindi possiamo alle tre e mezza che ore è adesso? sono le tre e dieci sono le dodici no, sono le tre e dieci no, no, no volevo dire questo dato che si parla di sceneggiatura volevo un attimo sceneggiare questo mio intervento se no divento una moglie allora vi dico questo che io ho una Moto Guzzi Falcone del 52 che è lo stesso anno in cui è stata fondata l'ANAC che è l'associazione storica degli odori questa moto è una moto che io non uso mai uso una volta ogni due anni eccetera e poi tutti pensano quella è l'ultima Moto Guzzi che hanno fatto no, la Moto Guzzi continua a esistere e vende più all'estero nel mondo che in Italia esporta in Russia, in Cina lui sovrano dice ma dove vuole arrivare questo? esatto allora questa moto io la prendo una volta l'anno una volta ogni due anni la metto sul cavalletto faccio così e parte perché dico questo? perché l'ANAC è un po' come la Moto Guzzi è un'associazione nata nel 52 che sembra che sia che non esista più che sia nel garage e che tutti se la siano dimenticata invece è un'associazione ancora viva non c'ha solo i Falcone ma c'ha anche i nuovi modelli che esportiamo all'estero ed è un'associazione storica che realmente fu fondata nel 52 anche da suo padre da Furio Scarpelli da Agge da Rossellini e da Zavattini ma insomma diciamo non finiremo più se li citiamo tutti anche citiamo Lina Vermuller perché non citiamo mai le donne Liliana Cavani eccetera questo per dirvi che l'ANAC ha preparato e vi propone questa nuova iniziativa un'iniziativa che rientra nella tradizione dell'ANAC poi Umberto Merino che ne è il direttore vi spiegherà meglio che rientra nella tradizione dell'ANAC che si muove saluto Alessandro Rossetti che è il nostro tesoriere che si muove con lo spirito la filosofia dell'ANAC l'ANAC continua a fare le battaglie che ha sempre fatto per difendere il cinema d'autore il cinema di qualità l'indipendenza degli autori rispetto a una macchina che li soverchia sempre di più e per questo abbiamo pensato con Umberto di ricreare uno dei fiori all'occhiello dell'ANAC che era questa scuola di sceneggiatura che si teneva contemporaneamente all'assemblea alle riunioni dell'esecutivo in una stanzetta ed era appunto stata creata da Leo Benvenuti e che ha creato tutta una serie di sceneggiatori che ancora oggi sono importanti tra l'altro dovrebbe venire qui anche Nicola Guaglianone che è anche lui nel comitato scientifico e quindi abbiamo pensato di cominciare questa tradizione e insieme appunto a Umberto Marino che adesso vi dirà tutto abbiamo mantenuto questo spirito e questa diciamo filosofia dell'ANAC Giacomo Scarpelli insieme a Pupia Vati insieme a Nicola Guaglianone anche a Gabriele Mainetti e altri fa parte del comitato scientifico giuro che non dico altro mi sembrava interessante fare questa piccola premessa io sono più sintetico io c'ho io c'ho una Ducati del 52 io poi sono nato del 52 però la cosa è semplice io ho lavorato con Leo sono entrato all'ANAC perché mi ci portò Age le prime volte mi rompevo un po' le palle però pensavo ma se Age viene qua io chi sono per dire che non ci vengo e quindi ci sono venuto e ci sono tornato ho insegnato in quasi tutte le scuole conosciute sul suolo italiano a un certo punto mi sono detto ma qua c'era la scuola di Leo con cui ho avuto la fortuna di lavorare e questa scuola aveva un carattere differente dagli altri che coincide pienamente con l'idea che ho io dell'insegnamento della sceneggiatura cioè allungare la scrivania semplicemente cioè uno un po' più vecchio io sono quelli capelli ma ho 67 anni come ho detto prima ci sono 52 uno un po' più vecchio a un certo punto scende da casa va in un posto e dice guardate qui allungo il mio tavolo e vi insegno quel poco che ho imparato di trucchi di intelligenze commentiamo insieme il giornale commentiamo insieme la situazione politica in più la mia esperienza di insegnamento soprattutto alla Yulm e al master della Yulm al master dell'accademia d'arte drammatica io ho fatto l'accademia d'arte drammatica non ho fatto scuole di cinema mi avevano segnalato un fatto i ragazzi oltre alle rette che sono spesso esose in alcuni casi hanno un grande problema chi non è di Roma deve vivere a Roma chi non è di Milano deve vivere a Milano allora io mi sono detto ma se noi facciamo due giorni in cui con un B&B poi troveremo una collaborazione con qualcuno vicino alla sede è con un giorno con una notte un ragazzo può venire e fare sei ore un giorno e sei ore l'altro e il resto scrive e in più siamo riusciti attraverso i generosi contributi di chi ci ha voluto sostenere che sono il MIBAC perché c'è la Tia adesso e ritornate io me la scordo sempre la SIAE e l'APA siamo riusciti a fare come faceva lei una scuola gratuita che garantirà gratuitamente a 10 studenti massimo 12 se proprio ne troviamo di straordinari un insegnamento credo di ottimo di ottimo livello e anche piuttosto moderno nella concezione nel senso noi avremo delle cose per esempio ho già parlato oggi proprio con un capo strutturalare ci verrà a parlare a metà anno quando cominceremo con i soggetti ci parlerà del piano editoriale ce ne farà uno vero o uno finto cioè ci dirà noi vogliamo questo in modo che uno sappia che cosa vuole la committenza perché se no diventa una cosa stratta che diciamo io sono piuttosto contrario questo è più o meno l'idea semplicissima cioè c'è dei saperi che vanno trasmessi dei contributi dei nostri diciamo sponsor sostenitori ci permettono di farlo gratuitamente e come faceva Leo noi proveremo a farlo sperando di riuscire già quest'anno ma soprattutto il prossimo a concludere l'anno con delle proposte da portare in giro sui tavoli veri nel senso format e sceneggiature nel senso che la scuola produrrà della roba e quindi si propone di essere un centro culturale di produzione culturale giovanile questo è un ottimo programma quello che posso dire anticipando una chiusura prima che parli Giacomo che mi piacerebbe l'anno prossimo magari avessimo chissà nei soggetti anche i vostri quindi è un link che è un link che me la prendo io quest'anno io l'ho mandata alle scuole dell'insegno qualcuno mi ha mandato sì sì sono arrivato infatti bene allora io aggiungo una precisazione diciamo nel senso che la sceneggiatura la scrittura della sceneggiatura è un monito però è anche un invito non è una scorciatoia della scrittura insomma spesso i ragazzi qui forse lo sanno spesso si pensa faccio lo sceneggiatore così scrivo pure male tiro via tanto poi ci pensa il regista ecco no la sceneggiatura è una specializzazione come molti di voi sanno e quindi bisogna essere prima laureati in medicina per diventare psichiatri e quindi bisogna prima di tutto saper scrivere e saper raccontare prima di diventare sceneggiatori per cui l'ho ricordato l'altro giorno appunto all'inaugurazione del parco a Gescarpelli mio padre diceva allo sceneggiatore in Italia tocca essere autore due volte della sceneggiatura ma prima ancora del testo che precede della novella del trattamento mentre in America mentre in America in genere da sempre insomma si attinge ai romanzi lo sceneggiatore è un adattatore e poi uno sceneggiatore ecco in Italia forse adesso un pochino meno ma insomma in Italia lo sceneggiatore deve prima inventarsi la storia originale come avete fatto voi e scriverla nel migliore dei modi possibili quindi auguri chiuderei ringraziando tutti e insomma soprattutto i colleghi che hanno letto velocissimamente i soggetti qualcuno ha detto erano alcuni un po' lunghi è vero bisognerà dargli magari una misura un po' più contenuta perché a volte non serve essere troppo lunghi per vendere diciamo al meglio un'idea che se è forte arriva anche se è più breve quindi grazie complimenti a voi venite facciamo una foto finale con voi e con tutto l'Anac dai